Ricominciare da zero non solo è possibile ma in alcune situazioni è anche necessario, anche indispensabile perché se stiamo a ravanare cose già in essere che non vanno bene, che non ci vanno più bene rischiamo di restare impantanati. Questo è valido a tutti i livelli, sia a livello personale ma anche a livello nazionale pensate ad esempio, non so, gli Stati Uniti che sono ripartiti tra virgolette da zero rispetto all'Europa hanno avuto uno sviluppo almeno per un periodo sicuramente più intenso e che ancora ad oggi comunque è più intenso ogni volta che noi restiamo legati alle vecchie cose, come avere una vecchia casa che è piena di magagne e stare lì a cercare di ricostruire, tappiamo un buco da una parte e se ne formano dall'altra è molto meglio buttare giù, radere tutto al suolo e ripartire. Questo vale nella vita sentimentale, nella vita lavorativa, nella vita affettiva c'è una storia di un maestro che col suo discepolo cammina e arriva fino a una casa dove chiedeva ospitalità insomma entra dentro questa casa, c'è una famiglia che l'accoglie, una famiglia molto povera però molto ospitale li fanno entrare, gli danno un diciamo un giaciglio su cui riposare e il maestro nota che la vita di questa famiglia ruota attorno a una mucca perché loro latte vivono, praticamente la mucca gli dà sostentamento gli aiuta nel lavoro, poi comunque fanno latte e infatti a loro gli danno latte da mangiare e sono comunque molto poveri perché non hanno null'altro per sostenersi e allora insomma durante la notte il maestro sveglia il discepolo, dice vieni con me, vanno diciamo nella stalla, il maestro tira fuori un coltello enorme e ammazza la mucca, le pianta una coltellata qua e la uccide e il discepolo dice ma che stai facendo maestro ma hai rovinato questa famiglia, la mucca era l'unica fonte di sostentamento, il maestro dice vieni, vieni, andiamo via e durante la notte se ne vanno e scappano, guarda ma hai fatto proprio questa cosa a queste persone che ti hanno trattato bene, che ti hanno dato tutto quello che avevano e tu li ricambi in questo modo ma poi perché? Insomma loro vanno, passa del tempo e il discepolo ce l'ha sempre comunque con questo maestro per questa storia della mucca e un anno dopo circa il maestro dice vieni, vieni, facciamo, devo portarti in un posto rifanno il cammino, vanno in questo posto qua e ritornano diciamo nella casa che era una vecchia catapecchia diciamo dove abitava questa famiglia di contadini e invece della famiglia della catapecchia vede una bella villetta lussuosa eccetera e praticamente il discepolo dice al maestro hai visto, guarda, li ha ammazzato la mucca, adesso non ci saranno neanche più loro e ci sarà qualcun altro questi saranno chissà che fine avranno fatto, saranno finiti sul lastrico, saranno già morti di fame e il maestro dice vieni, vieni, bussiamo, bussano e in realtà ritornano ad aprire la famiglia vecchia dell'anno prima non li riconoscevano quasi perché prima erano tutti magri, spenti, smunti in viso invece adesso belli floridi e il maestro gli dice hai visto che stanno bene e il discepolo dice ma cos'è successo, che cambiamento che avete avuto eh sì, dice il padrone di casa perché voi, mi ricordo di voi, siete venuti l'anno scorso pensate che in quella notte qualche balordo ci ha ammazzato la nostra mucca ci siamo trovati all'inizio che non sapevamo come fare per sopravvivere però poi la necessità ci ha spinto a ripartire da zero, a ripartire da capo abbiamo iniziato a coltivare piantagioni, alberi da frutto insomma abbiamo diversificato e piano piano poi ci siamo ricomprati altre mucche abbiamo creato un allevamento e siamo riusciti a guadagnare parecchio e ci siamo costruiti questa bella casa quindi queste persone se fossero rimaste con la loro mucca avrebbero continuato tutta la vita a bersi stolatte e non avrebbero fatto nient'altro invece in questo caso il maestro illuminato gli ha ammazzato la mucca che era sì una fonte di sostentamento ma era anche un vincolo, era anche un legame e in questo caso invece noi dobbiamo autoeliminarci vincoli perché non abbiamo sempre la fortuna di incontrare il maestro che ammazza le nostre mucche però dobbiamo avere la forza di ammazzare da soli le nostre mucche perché se non abbiamo la forza di ammazzare le nostre mucche continueremo diciamo a restare in questa prigione senza mai fare un salto quindi ricominciare da capo è necessario qualora le cose non ci piacciono dobbiamo ricominciare completamente e abbattere tutto ciò che avevamo che tanto diventa soltanto una zavorra inutile e ricostruire qualche cosa si è sempre in tempo anche a 90 anni bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale e seguimi anche sul blog soluzionevip.com ciao